E se uscite dall'euro la tua pensione non vale più niente, la tua macchina non vale più niente, ti cadono i capelli, non puoi più fare la spesa, piove sempre anche la domenica. Sembra che senza l'euro... Poi uno guarda l'anno scorso i tre paesi europei che sono cresciuti di più in Europa, sono stati la Polonia, l'Ungheria e la Gran Bretagna, che sono tre paesi che stanno in Europa e non hanno l'euro, guarda che cretini, si sono tenuti la loro moneta, sono in Europa e sono cresciuti più di tutti gli altri. L'euro crollerà ma non per Salvini, non è Salvini che fa la battaglia contro l'euro, l'euro crolla perché è una moneta senza senso, è l'ABC. Guardiamo i dati dell'Italia, perché poi i numeri fanno la differenza, 2001-2015, ve lo ricordate Prodi, aveva detto con l'euro lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo come se lo avrassimo un giorno di più. Aveva preso solo la prima metà, lavoreremo un giorno di meno, sì questo purtroppo vista la disoccupazione l'aveva preso. L'Italia, e chiudo, oggi è incredibile a dirsi, la sera prima dell'entrata in vigore dell'euro, il 31 dicembre del 2001, la disoccupazione in Italia era inferiore a quella tedesca, era inferiore a quella tedesca. Cosa è successo in questi anni? Vi siete rimbambiti? Avete smesso di riuscire a fare prodotti, a esportare, a vendere, a commerciare? No, l'euro è stata una moneta tedesca che ha aiutato l'economia tedesca, che è sopravvalutata di almeno un 20% rispetto all'economia italiana e cosa succederebbe se domani mattina invece dell'euro in Italia e quindi anche in Umbria tornasse il fiorino? Disastro! Torno al fiorino, vale il 20% in meno rispetto all'euro e quindi se vendo casa a Perugia e la compro a Terni, la vendo in fiorini, la compro in fiorini, non mi cambia un accidente. I miei prodotti sono più competitivi rispetto ai prodotti tedeschi del 20%, l'auto italiana, la mela italiana, il mobile italiano, la frutta, la verdura italiana, il pesce italiano e il turismo italiano è del 20% in più concorrenziale rispetto agli altri. Certo, se vendi casa a Perugia e vuoi comprare casa a Berlino, paghi il 20% in più, cazzi tuoi, se vendi casa a Perugia e vuoi andare a Berlino, non capisco perché uno dovrebbe trasferirsi da Perugia a Berlino. Però l'Italia tornerebbe ad avere un'economia normale, quindi l'euro crollerà e noi da persone responsabili ci stiamo preparando al giorno dopo, non per Salvini, perché in Grecia l'hanno tenuto in vita artificialmente, ma hanno dovuto dare alla Grecia 84 miliardi di euro. Che paghiamo noi?